Siamo con Luca Rossi, titolare del birrificio L.A.S.O.R. di Sassello, che ha da proporci un prodotto della tradizione, diciamo, eccellente. In Italia i birrifici italiani sono gli unici che producono, a parte la petra, la birra alle castagne. C'è un aroma di castagne, un retrogusto, si potrebbe chiamare. Sì, un sentore di castagne, un sentore di castagne che si assente sul palato, diciamo che assomiglia un po' all'affumicato. Beh, ma io voglio provare però, scusa, perché si fa presto a dire sentore di castagna sul palato. Qui va verificato, caro Luca, io sono implacabile, nel senso che devo... Ecco, a voi. E' buonissima. Molto fresca. Devevo stare attenti perché è molto alcolica. Ah, ecco, io andavo ci potrà cantavo, capito? A 6 gradi, quasi 7 gradi. Ho un corpo esile perché serve per marcare questo aroma alla castagna che ti rimane come retrogusto. Io guarda, sento quasi marron glacé. Come dire, è proprio meravigliosa. Complimenti. Quindi domani invece ti mettiamo alla prova sul prodotto dell'innovazione. Sono curiosa di scoprire qual è la birra dell'innovazione perché sulla tradizione... Ci siamo. Numero uno. Grazie. Grazie a Luca. A domani. Ciao.